Rieccoci qua nel frattempo che aspettavo è arrivato ciò che avevo ordinato. Ecco ve lo mostro, essenzialmente è una zuppa di pasta con i gamberi e il pollo. E come contornino mi hanno anche messo qui un limone verde ti ho visto qui in questo posto essere molto piccoli, sono dei limoni grandi poco più di un'oliva e sembra il piatto appetitoso, adesso me lo pappo e ci sentiamo alla prossima. Ecco, se sia gustoso meno va anche dei vostri gusti, io detto sinceramente non sapevo che il nome di questa cosa qui fosse l'Axa l'avevo anche già provato questo piatto in un altro posto, in un'altra parte e devo dire che il pandan con i gamberetti e il pollo è ottimo e il gusto è eccezionale. Ok ragazzi, mi do il buon appetito da solo e alla prossima!